3, 2, 1, out! Vengo da un lungo infortunio, comunque mi ha stato in box per più di tre mesi, quindi comunque ripartire non è mai semplice, però ho fatto un buon lavoro durante l'estate. Con Piero abbiamo avuto delle idee, poche idee, ma ben chiare. E soprattutto abbiamo raggiunto una serenità di gruppo, stavamo molto meglio insieme e ci ha permesso di allenarci molto bene e soprattutto fisicamente, perché il livello di intensità è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi e questo ci ha permesso comunque di fare un ottimo finale di stagione e raggiungere la semifinale. Quindi sicuramente il lavoro durante la settimana è stato importante. Io giocavo solo e esclusivamente da Primekker e poi col passare degli anni invece sono passato a giocare da guardia, più specialista magari che altro. Sicuramente sono contento di giocare, l'anno scorso quando ho giocato ho giocato un po' da Primekker, un po' da guardia, le poche partite che ho giocato. Con Piero a Roma spesso facevo il Primekker aggiunto e quindi è un ruolo in cui mi trovo bene. Sicuramente da guardia mi trovo un po' più a mio agio perché comunque è tanti anni ormai che lo faccio di fila. La Dynamo è casa nostra fondamentalmente ogni anno, siamo sempre qua, siamo un gruppo di amici e siamo una grande famiglia fondamentalmente. Quindi per noi è semplice arrivare subito dopo le vacanze in palestra ed è compito nostro soprattutto aiutare quelli nuovi che arriveranno a farli integrare al meglio sia nella squadra ma anche nella vita quotidiana qua a Sassari. Sono carico, sono pronto per la nuova trazione. Grazie. 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 No, 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 ok, no, no, ok, no, ok, Stia, partisce la matrimonica. Stia, partisce la matrimonica. Grazie per la visione!